e non fare la banana flambe da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mamma mia ragazzi nel video di oggi ho da parlarvi di alcune cose davvero super super interessanti raga parleremo nello specifico dell'update 8.20 ragazzi quindi un aggiornamento della patch che già conosciamo e che porterà delle novità super super interessanti parleremo anche e vedremo il nuovo arco in arrivo proprio oggi con tanto di gameplay e suoni non vedo l'ora di farvelo vedere e poi ragazzi la notizia del video sapete che quando c'è qualcosa che si muove io ve lo dico subito si parla di renegade raider aia aia dico solo aia ringrazio però ragazzi intanto tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone per sciopazzare di prepotenza nel negozio grazie davvero di cuore per supportare il canale non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sulle mie live e sui miei video ma prima ragazzi dai prima lo sapete raga prima devo dirvi la domandina mi raccomando i vostri commenti qua sotto ci tengo e ci tengo a leggere i vostri commenti e la domanda di oggi è un po' nostalgica voglio sapere cosa ne pensate vorresti che il lama tornasse come prima dai ve lo ricordate ragazzi la grande festa che c'era quando si trovava un lama che davo 500 di maz per ogni tipo di maz che è presente nel gioco io ragazzi rimpiango tantissimo il fatto che il lama non dia più 500 fatemi sapere come la vedete voi se vorreste che il lama tornasse come quando eravamo abituati a festeggiare una volta che lo trovavamo ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare eccolo qua il tweet ufficiale di fortnite risalente a poche ore fa ready your boss preparate i vostri archi the version 8.20 la versione 8.20 content update arrives tomorrow quindi arriva oggi in realtà tomorrow è dire domani rispetto a ieri cavolo di cosa stai dicendo aprile 2 quindi oggi il 2 aprile alle 8 am 12 dell'universal time quindi dovrebbe arrivare da noi alle 13 adesso non ricordo bene com'è la roba comunque entro la mattinata arriva non dovremo scaricare nulla e non ci sarà il downtime quindi ragazzi l'arco è già presente in game arriverà questa mattina sulla tarda mattinata e sarà disponibile per tutti anche perché avevo visto ragazzi che non ve le ho ancora fatte vedere le sfide della settimana numero 6 allora viene confermato quello che pensavo c'era una sfida che chiedeva di utilizzare l'arco ve le farò vedere magari nel video di domani ed ecco intanto qua ragazzi la news disponibile che potete vedere tutti nella sezione apposita della vostra lobby arco esplosivo anche il tiro con l'arco sa essere scoppiettante infatti ragazzi ci sono ora vi faccio vedere delle cose c'è però un paio di cose da dire questo è un leakers che pubblica determinate informazioni aggiuntive sull'arco dove dice l'arco ha un dardo che esplode all'impatto questo l'avevamo capito perché arco esplosivo è molto facile capirlo dovrebbe esserci un quando miriamo con l'arco non so se vi ricordate il video di ieri vi avevo fatto vedere quella riga no dovrebbe essere la parabola della freccia quindi dovreste in teoria dovremmo in teoria vedere un colore quando miriamo con l'arco e poi funzionerà in poche parole come una granata quindi tenendo premuto tenderemo l'arco rilasciando faremmo scoccare il dardo ma ho qualcosa di più ragazzi ho qualcosa di più interessante ovviamente non volevo farvi vedere quello ma volevo farvi vedere questo ragazzi lo censuraziamo un pochettino ci sono dei file audio e un po di gameplay dell'arco sentiamoli assieme non sono il senti 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 attenzione senti che roba questa è l'esplosione intanto lui ci gira anche l'arco vedete si tende ci sono i due anelli in alto che si chiudono senti che roba senti che roba questa è una grande anteprima dell'arco ragazzi tanta tanta roba sono proprio dardi esplosivi esplodono forse non fortissimi e questo ragazzi invece è il movimento del personaggio quando correte con l'arco imbracciato sembra un po un ballerino di tip tap quando lo vediamo correre così però come vedete mano destra e mano sinistra entrambe che tengono l'arco e il personaggio più o meno si muove in questo modo ragazzi insomma ci sono un sacco di cose sull'arco che ancora non sono state rilasciate ma che voi avete visto in anteprima non vediamo ovviamente l'ora di vedere l'arco in azione ma andiamo avanti ed eccola qua raga meravigliosa come non mai la renegade raider tutti la vogliono tutti rimpiangono di non averla scioppata tutti rimpiangono e basta ragazzi ci sono delle grandi notizie riguardanti la renegade raider e non sono notizie ad cazzum come si dice sono codici dei file di gioco ve ne faccio vedere uno intanto questo questo ragazzi è un disastro da leggere ma fa parte della sezione nel codice sorgente dedicata allo shop e se andiamo a leggere le parti evidenziate dice set storm avenger cosmetic source season 1 season shop quindi ragazzi è stato introdotto con la patch 8.20 queste righe sono state introdotte queste righe di codice che vanno proprio a richiamare il primo shop stagionale della season non sappiamo se verrà inserito se lo stanno facendo perché vogliono testare delle cose perché lo hanno fatto sappiamo solo che c'è ma la cosa più incredibile ragazzi è questa roba qua che a voi sembra ramaico antico ma se andiamo a vedere proprio qua sopra vedete le due modifiche che ci sono che sono state fatte nella skin della renegade raider nella 8.10 nella 8.20 nella 8.10 la renegade raider viene inserita nel loop che vi ho fatto vedere prima dello shop della season 1 così nell'update 8.20 viene aggiunta una nuova riga che è un richiamo dello shop della season 1 allo shop che abbiamo noi ogni giorno io non so perché lo stiano facendo non ne ho assolutamente idea ve lo faccio vedere qualcosa si sta muovendo potrebbe esserci davvero un ritorno della renegade e di altre skin come già avevano anticipato gli sviluppatori magari in un prossimo futuro ma chiudiamo ragazzi con una notizia incredibile nuovi problemi legali per epic games questa la conosciamo tutti è la skin taro ma arriva da poche ore un post su facebook di ruby ramirez chi è ruby ramirez è praticamente un fumettista disegnatore che accusa seriamente epic games di avergli plagiato uno delle una delle sue creazioni ed effettivamente ragazzi se andiamo un attimo a vedere questa immagine e a rapportarla beh cavolo taro è davvero molto molto simile al disegno fatto dal signor ramirez che quindi ha cominciato a intentare una causa legale nei confronti di epic games e vediamo ovviamente se ci saranno degli sviluppi tutti quelli che gliel'hanno intentate le cause le hanno ritirate non si sa perché staremo a vedere anche l'ennesima beh ragazzi per oggi io ve ne ho cantate davvero tantissime vi ringrazio un sacco per avere guardato il video mi raccomando iscrivetevi in tanti al canale codice creator xioderone noi ci vediamo alle 13 in live ciao 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 ciao